Siamo davvero felici di aver iniziato il 27 luglio la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022. È una stagione ricca che offre tantissime sorprese. Prima di tutto l'arrivo del nuovo direttore principale, il maestro Daniele Gatti, che da marzo entrerà nel nostro teatro, ma che già ha presentato un programma molto interessante. L'apertura del nuovo auditorium, la sala che si affiancherà alla sala grande del Teatro del Maggio e che con i suoi mille posti raddoppierà le possibilità di assistere a grandi spettacoli al Teatro del Maggio. E poi una stagione veramente ricca, con i più grandi artisti, i più grandi direttori, i più grandi registi sulla scena. Una stagione così ricca che inizia il 28 agosto. Inizia presto perché c'è stato l'impegno del Maggio, oltre ad allestire una stagione importante, anche a voler recuperare tutti quegli spettacoli che a causa della pandemia non era stato possibile portare in scena. Erano andati ed erano stati presentati sullo streaming, ma l'impegno del teatro è quello di portarli l'attenzione e metterli a disposizione del proprio pubblico e soprattutto di quelli che hanno dato fiducia, riposto fiducia nel teatro mantenendo il biglietto e che potranno quindi assistere alle nuove date semplicemente presentando il titolo d'ingresso che avevano già a loro disposizione. Abbiamo cercato di raggiungere tutti voi con il quadro più completo delle informazioni per rinnovare i vecchi abbonamenti, sottoscrivere nuovi abbonamenti o procedere all'acquisto dei biglietti per i nuovi spettacoli. Le informazioni sono state inviate a tutti gli abbonati con una lettera cartacea molto dettagliata e con tutte le informazioni. Abbiamo spedito più di 80.000 newsletter a tutti i nostri contatti email con tutte le informazioni a disposizione. È facile recarsi in biglietteria che osserverà per tutto il mese di agosto e i primi di settembre anche delle aperture straordinarie per facilitare l'acquisto dei nuovi biglietti e la possibilità di avere informazioni. Oppure telefonando al servizio cortesia che è disponibile tutti i giorni, compresa la domenica, ad eccezione del 15 di agosto. Quindi anche qua uno sforzo importante per permettervi di avere tutte le informazioni a supporto. E poi ovviamente il sito web che trovate aggiornato anche qua con tutte le tabelle degli orari e con tutte le tabelle relative agli abbonamenti, ai nuovi biglietti e al rinnovo degli abbonamenti vecchi. Dal 27 luglio al 29 agosto osserveremo un periodo di prelazione in cui daremo la possibilità agli abbonati storici di rinnovare il proprio abbonamento prima di tutti gli altri, avendo sia la possibilità di confermare il proprio posto nella sala vecchia e di scegliere per primi la propria poltrona nel settore di appartenenza nel nuovo auditorio. Dal 30 agosto alla prima data del turno di abbonamento sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti, i biglietti singoli e i carnet per gli spettacoli fuori abbonamento. Però attenzione perché i biglietti per Così Fan Tutte sono già in vendita, quindi non fateveli scappare. Per sfruttare al meglio anche il mese di agosto abbiamo pensato di favorire il nostro pubblico per il rinnovo o l'acquisto degli abbonamenti in varie soluzioni. Primo le aperture straordinarie della biglietteria che sarà aperta dal lunedì al sabato, esclusa la domenica ed esclusa la settimana dal 9 al 15 di agosto. Il servizio cortesia disponibile tutti i giorni, quindi anche la domenica, fatta eccezione per il 15 di agosto. E poi ovunque ci si trovi c'è la possibilità di acquistare e saldare il proprio abbonamento facendo un bonifico online, quindi basta avere un pc o uno smartphone a disposizione e non è nemmeno necessario presentarsi in biglietteria a Firenze. E poi abbiamo introdotto anche una nuova modalità, proprio per andare incontro a chi fosse in vacanza, per poter rinnovare il proprio abbonamento, quindi sto parlando solo dei vecchi abbonati che devono fare vantare la prelazione, c'è la possibilità di telefonare e prenotare il proprio nuovo abbonamento, semplicemente indicando la propria preferenza e poi successivamente entro il 29 agosto recarsi personalmente in biglietteria, inviare una propria persona di fiducia, fare bonifico online o con carta di credito al servizio di cortesia per procedere all'acquisto e alla conferma definitiva. E quest'anno abbiamo aggiunto anche un'altra serie di novità per favorire il nostro pubblico. La prima è che chi avesse diritto ad ottenere dei rimborsi per gli spettacoli che a causa della pandemia sono stati cancellati e non sono stati riprogrammati, c'è la possibilità di portare a compensazione gli importi dovuti e scalarli dal nuovo abbonamento, quindi una ulteriore possibilità magari per acquistare un nuovo abbonamento o rinnovare quello vecchio pagando qualcosina in meno rispetto al listino. Un'altra novità importante è l'abbonamento dedicato agli under 30. Fin l'anno scorso i giovani con l'utilizzo della Maggio Card avevano la possibilità di acquistare con prezzi vantaggiosi i posti per i loro spettacoli preferiti, però non avevano un abbonamento dedicato. Quest'anno lo abbiamo creato e quindi per gli under 30 c'è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento, scegliere il proprio posto preferito e quindi da oggi godere di tutti i vantaggi di un abbonato. Terza novità, innovazione assai comoda, è non più il pacchetto con tutti i biglietti singoli ma due semplici carnet, due semplici biglietti, uno per la sala grande e uno per la nuova sala dell'auditorium. All'interno ovviamente raccolgono tutti i biglietti per accedere ai vari spettacoli. Tra l'altro una perla. Abbiamo allargato anche i caratteri con cui vengono scritti i nomi delle sale proprio perché avendone due non ci si possa confondere e prendere sempre su quello corretto per la serata.